Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse dei medi italiani allineati all'euroatlantismo. Iniziamo dalle parole importanti, gravi, del Presidente della Repubblica Bielorusso di Minsk, Aleksandr Lukashenko. Sapete, c'è l'Unione di Stati, praticamente quasi la fusione, quasi, con la Federazione Russa di Putin. Sentite questa frase, il titolo di questa rassegna molto importante. L'Unione Europea sta mettendo la sua stessa testa, il suo capo, dentro la ghigliottina nucleare, atomica, delle atomiche tattiche russe, arrivate già sul suolo bielorusso. Infatti, Aleksandr Lukashenko ha confermato che nella giornata dell'altro ieri ha approvato, individuato, nelle cartine militari ufficiali dello Stato bielorusso, gli obiettivi militari centri decisionali dei governi occidentali dell'Unione Europea, cioè dei paesi ostili ufficialmente. Questo viene riportato dal canale Telegram bielorusso, vicino all'amministrazione locale Pool One, su Telegram. Le coordinate, dice Lukashenko, le conosciamo al millimetro, e sappiamo benissimo dove sono i capi dell'Unione Europea, dove sono i capi militari dei paesi dell'UE. L'obiettivo, come scrive il canale Telegram citato poc'anzi, è sostanzialmente quello di andare a colpire in una possibile guerra diretta con la Nato, e Dio non voglia, con, attraverso le testate nucleari tattiche russe, i centri decisionali di potere occidentali. I politici occidentali dell'Unione Europea, da Bruxelles, Berlino, Parigi, in giù, come dice Lukashenko stesso, in virgolettato del Presidente, stanno mettendo la testa, la loro stessa testa, nella ghigliottina atomica nucleare russa. Intanto Human Rights Watch, ONG, che si occupa di difesa dei diritti umani, che conosciamo molto bene qui in Ungheria. Però sentite questa volta, stranamente se la prende con l'Ucraina per la seconda volta. L'esercito ucraino avrebbe ripetutamente usato in violazione degli accordi internazionali delle mine vietate, vietate in guerra nel Donbass, nell'est dell'Ucraina del 91, e avrebbero ucciso diversi civili diverse volte. Le mine si chiamano Lepestok, e sono di derivazione sovietica, quindi di decenni fa. Vanno posizionate, sono state fotografate in diverse foto, sopra la testa di diversi razzi, missili da 220 mm di calibro, 312 Lepestok mine a farfalla, così vengono dette, secondo a petalo, secondo le foto dell'ONG, sempre in Ucraina orientale. Human Rights Watch, il 28 maggio scorso, aveva ufficialmente chiesto tramite una lettera spiegazione del governo ucraino alla presidenza Zelensky, che non hanno voluto commentare nel rispondere. Tanto lo stesso presidente ucraino, Vladimir Zelensky, ha rafforzato la presenza militare difensiva ai confini nord con la Bielorussia, proprio per la minaccia dell'arrivo della Wagner di Prigozhin dopo il colpone di Stato. E' arrivato l'ordine quindi di disporre le difese rafforzate a Valery Zalushnik, che quindi non sarebbe morto, come detto da fonti russe, almeno secondo queste nuove informazioni che arrivano dall'Ucraina, anche queste di parte, e ordine anche al generale Serhii Naiev a riferirlo il presidente ucraino, il suo canale ufficiale Telegram. La Polonia, d'altro canto, chiede la importazione di testate nucleari americane nel programma nucleare di condivisione delle testate atomiche tattiche della Nato, a riferirlo al primo ministro di Varsavia, Mateusz Morawiecki. La Nato nel 2009 ha avviato un programma nucleare con le nuove testate B61, credo strategiche nucleari, già in Belgio, Germania, Olanda, Turchia e, come sappiamo, in Italia. Il Pentagono ha ammesso una cosa importante. Era falsa la notizia dello spionaggio cinese dei palloni spia di febbraio scorso abbattuto sui cieli degli Stati Uniti d'America, riferirlo appunto al Pentagono stesso giovedì scorso. Non hanno quindi raccolto informazioni segrete sulle basi, sugli obiettivi militari strategici americani, a riferirlo Pat Ryder, generale di brigata americano portavoce alla Casa Bianca per la difesa, il Dipartimento della Difesa DOD. I vandali per le strade di Parigi, di tutta la Francia, distruzione, caos, qualcuno parla di guerra civile, il problema, l'enorme problema dell'integrazione, per dirla alla maniera europeista-globalista. Mentre però, questo viene un po' nascosto dai medi italiani allineati, Macron e la moglie Brigitte se ne vanno al concerto di Elton John vicino Parigi in un'arena sportiva nella notte tra 28 e 29 giugno scorso, riportato da Le Valeurs Actuelles, giornale conservatore francese non solo. Diverse foto, una foto in particolare pubblicata, condivisa dal marito di Elton John del cantante, il regista David Furnish su Twitter, potete vedere fonte ufficiale. Il palazzo dell'Eliseo non ha smentito assolutamente questa vergogna. Peggiore la situazione in Francia rispetto al caos banlieue del 2005, almeno secondo me, da quello che vedo, sparatorie, incendi, furti diffusi, più ne ha, più ne metta veramente. Con chi se la prende il Corriere della Sera, tanto per cambiare con Macron, lo Stato di diritto europeo, ma che mai, con Orban, Viktor, con l'Ungheria, la Polonia, soprattutto con l'Ungheria. Il signor no che usa il potere di Veto per farsi grande in Europa, no, è l'Unione Europea che usa, che abusa, va oltre i trattati per acquisire nuovi poteri e stracciare e distruggere definitivamente la sovranità nazionale, anche sul tema dell'immigrazione, sul tema della demografia, che è decisivo per il futuro. Infatti c'è stata, i giornali ungheresi, filogovernativi, confermano, la grande vittoria sostanzialmente di Polonia, Ungheria, con i veti per le quote automatiche obbligatorie degli immigrati arrivati anche e soprattutto illegalmente sul suolo dell'Unione Europea di Schengen. Infatti successo l'unione tra Polonia, Ungheria, Budapest e Varsavia contro il resto del Consiglio Europeo, compresa la Meloni, avete visto tutti la foto dei tre di Moraviecki, Orban e della Meloni, sempre nella capitale belga. Ho raggiunti gli obiettivi ungheresi e polacchi, nessuna dichiarazione congiunta sul nuovo piano Ursula von der Leyen per le vie legali, per far arrivare immigrati, per portare avanti qualche tipo di piano e non posso dire altro su YouTube, altrimenti mi cancellano il video. Mentre succede questo, in Unione Europea, Bruxelles, gli europeisti scalpitano, Corriere della Sera critica Orban, il 24 giugno scorso, 6-7 giorni fa, l'Europol, l'Europol non Fides, hanno dichiarato, considerato ufficialmente estremisti di sinistra e minaccia terroristica a diverse ONG che si occupano di favoreggiamento per loro dell'immigrazione illegale. Per esempio il movimento No Border, tutta la galassia quindi di ONG organizzazioni non governative e sostenute da reti filantropiche non oligarchi come quella Open Society Foundations di Soros Gheorghe. E in Ungheria continua la minaccia degli arrivi illegali, delle violenze, delle sparatorie tra mafie, afghane, eccetera, in Serbia del nord, ai confini a poche centinaia di metri dall'Ungheria, da Schengen. Siamo a Sobotko, a Subotica, in Voivodina, Serbia del nord, dove c'è una minoranza ungherese che racconta, ci sono le interviste a televisione pubblica ungherese a Media M1. L'impiegato dell'emittente pubblica Maggiara, Doro Olen, ha confermato il fatto di una nuova aggressione contro lo staff, per dire in una maniera globalista, contro gli impiegati, la truppe, la truppe, da parte di diversi illegali armati, distrutta parzialmente l'auto su cui sono scappati. L'Ungheria, solamente nel 2022, ha respinto centinaia di migliaia di ingressi illegali e quindi non ha assolutamente lasciato solo all'Italia, la Spagna o la Grecia, ma vuole evitare ulteriori problemi per tutta l'Unione Europea. in barba a quello che dicono gli allineati, i falsi, i bugiardi e i corrotti venduti. Grazie per aver visto questo video al prossimo, tra Italia e Modio e Orsaghi, iscrivetevi e lasciate un mi piace.